I lavori sulla strada statale 172 saranno completati in 270 giorni. È quanto emerso ieri a margine dell'incontro in regione a Bari tra il sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano e l'assessore regionale all'agricoltura Donato Pentassuglia i quali hanno incontrato l'assessore regionale alla mobilità e alle infrastrutture Anita Mauro di Noia per affrontare la questione dei tempi di conclusione della quarta corsia dell'orimini della strada statale 172. Al primo cittadino di Martina Franca e l'assessore Pentassuglia l'assessore Mauro di Noia ha comunicato che l'ANAS ha fatto sapere che i lavori saranno completati appunto in 270 giorni a partire dalla ripresa prevista per il 29 novembre prossimo. In questi giorni, stando a quanto riportato in una nota diffusa da Palazzo Ducale si stanno mettendo in campo le operazioni di riavvio del cantiere dopo la sospensione temporanea e sarà stilato il nuovo cronoprogramma delle lavorazioni di dettaglio aggiornato a seguito della variante firmata il 27 ottobre a Roma. Il sindaco Palmisano ha evidenziato l'urgenza di potenziare la segnaletica da cantiere e di collocare la segnaletica luminosa su alcuni tratti in considerazione della potenziale pericolosità nei pressi delle rotatorie sullo rimini in croci e svincoli soprattutto a seguito di incidenti e disagi verificatisi nelle ultime settimane. L'assessore Mauro Di Noia, recependo le istanze del sindaco e dell'assessore Pentasuglia, ha sollecitato l'ANAS a provvedere tempestivamente all'adeguamento della segnaletica e a esercitare tutte le azioni necessarie per il rispetto dei tempi di ultimazione dell'opera. Grazie.